Veneto martoriato dal maltempo. Situazioni davvero, davvero terribili. Ti divasta, hai visto? Primo piano è andata. È arrivata l'acqua? Due metri e tanta di acqua. Chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e... L'ultima volta che aveva visto un tempo simile era il 4 novembre, però del 1966. Devastazione dell'acqua e del fan. L'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo ha volato giù. Non ho mai visto una cosa del genere. Qui è arrivata fino al secondo piano, 80 centimetri dentro. Distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente. Le persone sono state fatte evacuare, si sono spostate. Quindi mettiamo assi Jackson, una game spalla. Autore dei sovrapposti